mo la chiama come un cazzo di c... faccia di merda, vi rubi la condizione torse sg scusa ma perchè non gira il cazzo di mouse spara ma non gira ma che cazzo manco l'altro mouse ma allora è poco il pc guarda! raga! sono in A sono in A ma gli ha spottati 26 prima vabbè dai mo gli apri il culo un poco dai mh lo so che si vai non sa che è eh vaffanculo bomba oh dov'è l'ultimo? in chi è? stanno votando per speller e blecchio ah? stanno votando per speller però ho defuso mhm l'hai visto? l'hai visto? defuso, defuso eh vabbè che ha fatto? ho trovato che ha fatto? oh non dovresti vedere troppo però non ho fatto schifo dai no infatti non vedi il ritardo dai ma poi mi droffi eh troppo un po' che qua eh non posso girarmi ma che cos'è? porco dio chiedete la pausa guarda che sta facendo da non posso cazzo no mi gira il cazzo posso comprarvi ma non vi posso non posso girarmi tieni ahahah 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 beh tieni posso dropparne quanti ne vuoi guarda spara switcha non gira magari è più il gioco ma nemmeno il mio mouse 10 euro è così eh eh infatti il mio non costa 10 euro ne costa 60 il mio è il detranio vero? è il si il cosa il detadder si eh non lo so il tuo bar ha rotto beh oddio tutte le volte che l'ho lanciato però anche l'altro non funziona quindi è proprio chi essa ma perchè vedono per la live? eh ma perchè tu vedi un qualche secondo in ritardo oh non fa non ha una fibra non rompere il cazzo ma già dal fatto che ho visto due spettatori non mi piace ce ne dovrebbe essere uno no a me dava due eh ah dici che mi calcolava comparsa non riparte spacco il mouse mi andavo ho iniziato a streamare non mi va più ti immagini per quello ah è vero che ho anche il microfono però poi ah ok muove 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 porco ma non era il mouse era il gioco perchè sennò non credi che l'altro mouse sarebbe andato un nuovo di zecca come fai a non sentirmi? eeeh hai rotto il cazzo bomba non sei e lo so che sei serio e lo so che sei serio e' proprio quella parte che mi fa girare e' così così e' 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 così no dai ragazzi sono in live su youtube ah ma dimelo prima e' così e' così e' così e' così e' così chey' so e' così mi ha persino ma donna che sciotto che andrà in bocca non mi fai Faccio schifo, faccio schifo, faccio schifo Donna, che mito Dì, va bene, faccio schifo 40 Ciao, vuoi piccato? Direvi dal gran cazzo, grazie Donna, basta fare kill Faccio kill poi come rank No, volevo il suo culo pure Poi come busto le kill della mia block La monster è pianta Di che sa? Di merda No, no, sembra tipo una Più dolce, un altro gusto Non so come specificarti Sa lo stesso, solo che qualcuno ci ha pisciato dentro No, dai, fai il sere, dai E' una pisciata nella monster Comunque non sembra proprio una Red Bull Infatti non dovrebbe sembrare Red Bull No, è proprio perché da normale sembra Red Bull Deve fare più dolce Si, più concentrata Più concentrata Perché è una studiosa E' una studiosa Che blu è un pazzo Infatti c'è morto Come lui Come Mons Come te Ma come onore, 95 Sì, è morto Ciao, Lelly, Lelly Bella kill Ho schiacciato la bottiglia, schizzato Scusami Bello forte Io ho fatto 13 Stavi dicendo bello Fortnite Ah, vabbè, Fortnite è una merda E dove voglio provare il pubblico? Ah, dopo come, dove devi dare l'account lì? Se, se, mi puoi dare l'account lì di come dove sta quel rainbow Devo provarlo un po' Mi fa vedere gli spettatori Oh, proprio poi Forse dovrei dare Sì, quanto lagga tutto Sì, ho camaleont Chi è che ha attaccato qui, raga? Eh, lui, il russo di merda, l'aggone L'aggone Pingo più io, cazzo Dai Dai, dai che gli fa entrambi Dai, cazzo, bella, doppia Quale, quale è doppia, se si amassi qui No, no, gli ha uccisi entrambe No, i nostri ha uccisi entrambe Ma non spara, no Ecco, la tripla Gli do la quadra Ma non spara Ma non spara Non so, my little bitch Eh, scusa Ma troppo tempo per switch all'arma Ma porca puttana Non è per switchare l'arma Perché ci mettono un anno e mezzo a ricaricarlo Il famos di merda No, ma tutte le armi sono così Pure quando tipo switchi Vabbè, no, no Le pistole sono Cioè Ma ti fai shift questo gioco Ti fai shift Le tue scarpine, oh yeah Ma mi spieghi perché l'ultima Ha 7 kill Ma mi spieghi perché voodoo lagga da schifo Voodoo, ma cosa era perché È un busso di merda Ho preso- Ho preso più di 10 di danno Oh, che po' Oh, io ho due Sìi Vaffanculo Sì, bomba, dai, siamo contenti Eh, tu hai scarpine, noia Questa l'Aug, bomba Questo da dove arriva? È sempre lì, è, in short Sì, ti fai una vita, mag di merda Madonna Oh, mia madre Ah, è nabbo È nabbo È nabbo Bomba con l'Aug Però che schifo d'arma, ma come fanno ad usarla? Io non sento niente Sì, col gali Col gali, da quando è che è così preciso e veloce quel coso? Sì, te, tre, ha avuto due edge shot in te, così Le compriamo, ragazzi Le due scarpine Sono così giusto, comunque, so Eh, appena ho detto edge Diciamo che da un lato hanno iniziato a sparare Decentemente Eh, beh, perché magari sono ct Però non abbastanza Scusa, diventano ct, io mi sono Cazzo Dopo la metà alf iniziano a sparare decentemente Oh, io senti, io Oh, che ca... No, una granata nei denti mi è arrivata Ho sentito il sapore Sapeva di... No, vi devo bloccare tutti No, tu non passi, pezzo di stronzo Mi sa che c'è uno che sta lasciando underpissi Underpissi Sì Pezzo di stronzo Sì, vabbè Ragazzi, un minuto abbiamo Un minuto e... Poi possiamo perdere Tanto io Yeah, una kill Sì, vabbè, non spara 81 Di 4 Ma da dove? Simone Dimmi Ti spieghi come fa lui a vedere me E ad avere questi riflessi Mentre io Sì, guarda questo Ma gli hai visto che ha statato il tipo Lo stava colpendo Eh, eh, hanno attivato i cheat È l'unica cosa Ma io ho detto da dove Ci ho detto No, ma infatti Ma non aveva senso C'era una ricendiera in mezzo Non poteva vedere Scusa Dai, ma io ho in testa Con il 34 Con il 34 Con il cazzo di palle Minchia, mi passa da voglio Quando ero così Dico per n E poi Sì, ok Sì, ok Un big mag Che ti fa edge shot da 100 km Uno mid da WP Occia Era più window Quindi probabilmente Market sta Market è un boh Eh, ma andrà adesso Ora mi spiegate Perché dura quella bomba Si è andata a morire Sta trollando Dici market, market No, Simone Sto ancora guardando lì Gli hai sparato da destra Sto ancora guardando a sinistra Dove sta mirando La WP Ah No, bomba, bomba Dove è la bomba? Eh, che spawn Dove c'è morto quel bocchinaro Sì, perché io ti do la bomba Mi la tenavo io No, per andare a B Porco Sono a per me Dovunque Eh Però voglio da per me Dovai Eh Perché è riservato Ma che pezzo di lento Di perdono Di merda A per me A per me C'è nessuna a per me Eh Lottì Ma C'è nessuna Ma 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 non mi ha sentito Dovevi capire se lottista sta guardando Sì, vabbè, va a dic 2004 Ma vaffanipo 2004 2004 di merda È 2004, hai do il cazzo Ah, adesso Non ti spingere troppo Non ti spingere troppo Quanti anni avranno? Un 13 Cosa fa Questo tipo è un coglione No, eh 14 Credo 14 Teoricamente Sì Teoricamente Certo che bomba già basta l'altro che mi fa danni Però che fa le ste bombe Tutto l'agra sto riuscire Ah Aiuto Ma rimango sempre con pochi HP, eh Guarda con l'agra Riga, irrasciate Scusami Guardo short, raga Guardatemi market Ah, uno l'ha ucciso C'è short Eh, lo so Verrà nato da short Probabile Guardatemi market Che guarda short Sono in due market Vedo nessuno Grazie bomba Almeno dimmelo che c'è un bocchinaro lì Ma vai a vedere Porco Dio Avevo appena perso l'AVP Ma perché Perché mi ha recuperato l'AVP Travolo in giro No, ma Dimmi che Purple mi ha recuperato l'AVP Da quando è che fa cose così gentili sto blocchino Ah, ok Sembrava strano La roba che mi ha più difficile è solo di sta cazzo di bombe di Dio Ma perché abbiamo i nemici che cittano Sono sardegli Hai uno che sta finendo l'817 Venga, chi è che mi sta bloccando? Tic in chillo Eh, l'817 Non fa altro che lamentarsi quello che diceva Ma che Quello è anche il parco Io voglio bene Che gai, mi hanno provato a kaiserare? Ma non mi capisco Short Short 1 l'ho sentito Guarda short 1, short 1 Guarda short 2, short 1 Guarda mi Marche Ma vabbè è enough No, ma che c... Ho capito tutto, ok? E must, enough Non sei giù Hai tipo di shit? Perché sei a kaiser? Che cosa si è cazzo? Hahahaha ... ... ... Non è colpa mia se lasciano come i bot Volevo esplorare, ok? C'è me tra l'altro Cazzo no Scusso Ah Oh cioè ci potrebbe essere gente in under pussy C'è gente in A Under sono full bianca Manco bianca Regà è la bomba, qualcuno la vado a prendere E' B la bomba No la bomba è T-Spaven No dico 1 è B Ma guarda quanto lagga, guarda quanto lagga Ma ma ti ci premo Ma che è? Non può morire se fa Oddio Poi io faccio lagga ancora la fissa Ma dove ti manda sta? Oddio non lo vede, è non vedente Non vedente? Quello fa un trentesimo di miei FPS Ma di quanto ti fai? Io l'ho lockato 300 Sera io ne faccio 200 fissa Invece di me Ma chi? Ho la 1080 dei cinesi Ma non è f- ma poi dico io, sai di ciò che pensavo? Ho detto magari avrà la 1080 quella di comprata su ebay da 50 euro, no? Ma io ti chiede fammi una mandami una foto No invece è originale Ma che cazzo è? Ma non è FPS di me Ma appunto, secondo me c'è qualche problema a livello... Con i coi di cavi secondo me Sì, bene? E' possibile che i cavi limitano le prestazioni? Non è un alimentatore come il mio Cazzo ne so Fa cagare di Mi ricordo che io di computer ne so meno di un pinguino, cazzo Già che mi dito che che... Eh, è FPS ragazzi Eh, hey, can you go B? Go B? Già che l'altro, già che... Già che l'altro 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 l'ho chiesto che scheda video e mi hai risposto che no c'ho Windows No, vabbè Sei da sto sto Non so che cosa pensé, non so che cosa pensé ha detto questo Ma ingenuo Ma che schede voglio? No, ho Windows 10 Il demonio molestato Ma raga, ma è possibile che a chiunque troppo la bomba venire troppo lì indietro? Ezzo, quest'altro Ezzo, ma si fanno una spin bottare È arrivata la bomba in faccia, raga Yes, ragazzi Bomba, ti dico di che gusto sa quella lì che sto bevendo Di cazzo Senti 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 Bomba Senti blu Bomba 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 Praticamente è un mix di set Senti un attimo Ma tanto c'abbiamo al PDC round Ok Puscia Che c**o Ho vado È un mix di set Si sfrutta e mera Mi spera Enzo Ho un po' cancri Sì E' un report Sì, è un report Sì, è un report Sì 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 Ma l'ottista sta ancora guardando Eh, faccio la squadra ragazzi 5 minuti e ne facciamo un altro 5 minuti E poi, che cazzo Welcome to Overwatch Ma tua madre è Overwatch? Sì Devo pure provare da Overwatch Sì No, non Overwatch il gioco No, lo so, lo so appunto Non hai ancora provato, serio? No, eh, avendo una scheda di video abbastanza Precaria Io appena lo sbloccato era tipo una puttanella Eccitata, tipo Sì cazzo, Sì cazzo Sì, poi c'era pala di inserbito Perché mi andava a 20 fps Ma teffanculo Porco 2 No, ma stai sbagliando cosa? Cosa? Simone parla del gioco, no? Lo so, lo so appunto Ma infatti stiamo parlando della stessa roba Senti tu che non hai capito un cazzo Troppo Ragazzi sentite qua, sentite qua Stai troppo concentrato sulla escort tu ancora No Eccolo qui il porco Ragazzi arrivo subito Da prendere da bene Ragazzi arrivo subito Sette Sette Arrivederci È il coso di Youtube Ah Stiamo a streamare adesso Sono curioso C'è JFOX e Stigliani Allora, due cazzo stream Yes, qua E infatti E infatti poi tra l'altro Bomba dove sta scritto requisiti Non esce manco della CPU Perché non usa la CPU Per fare qualcosa Tra l'altro è più Z La missione Youtube avviata Com'è la missione Youtube non è riuscita? La missione Youtube avviata Inizia Test blablabla È il bisogno E infatti Lai E infatti Inizio 一起 Inizio Allora 這 E Voi La Ah, sporro! Sporro, bomba! Oh, non mi stremi, se la trasmissione riuscivi, vaffanculo! Chi è? Vediamo un po'? Eh, bomba! Chi poteva mai essere? Madonna! Tu vorrei dire quanto fosse un bel ragazzo? Circa quattro anni fa. No, me lo ricordo che mi muoio da sto cosa. Sì, su Facebook bannon i post di merda, non bannon questi post qua. Ho 26 notifiche, bomba! No, mi pare! No, mi pare! No, mi pare! No, mi pare! Oh, mi pare! Oh, ma che poi hai notato la lista che ti ho mandato su Telegram, no? Hai visto tipo, c'è pure FastWeb Io sono senza parole Vuole diventare un operatore? 5G fast, è bomba Non so, amore, non si... Cosa? Eh, non so, mi scariciamo Aspetta, devo risolvere un attimo una cosa, due secondi Non so, amore, non so, amore, non so, amore, non so, amore... Non so, amore, non so, amore, non so, amore... Aspetta qui Qui, eccomi... Spero... Ma l'ottista? Oh, ma non mi ha inviato nulla Group Ah Ma l'ottista è mutato Ah, giusto, ma... Oh, ma non so, amore, non so, amore, non so, amore... Ma l'ottista è molto bello Ma l'ottista è molto bello Ma l'ottista è molto bello Ma come faccio un premium normale? Eh no, sono premium qui anime world Che vuol dire? Quando esce premium vuol dire che quel dominio qualcuno l'ha venduto un sacco di soldi, capito? Porco lui Eh, dipende un altro dominio Punto, punto, fai come i siti di merda Punto movie, punto red Ma che schifo, io devo comprare un dominio per manga world quando è che prendi vuol dire che c'è domini o qualcuno è bella foto però io avrò una fotocamera la voglio si per fotografare i treni no vabbè a parte c'è tanto per tenermi qualche ricordo a cose mi metto a fotografare i treni vabbè fotografo il pisello e vedo se cresce vabbè è già grosso di suo però vorrei vedere se cresce un po' di più raga andate a vedere la mia live poi ti cassa youtube black del 69 io sono vivo non apparo un cazzo aspetta ma se questo russo ho l'immagine di un drago nero aspetta perché ce ne sono di più vabbè vai giù vuoi poco più ho l'immagine di un drago che aspetta no 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 guarda qua che è tremida no no guarda qua no no quello non ha scritto gameplay guarda qua dal vivo ora ho trovato io ma quanto è figo ma quanto è figo ma quanto è figo è bellissimo ma non ci sono live si ci sono ma è spagnolo ma cosa ma questo ho tipo 40 iscritti non ne ho 2000 ti sei fatto uno iscritto non sei finita oddio ma si sente bene ovvio che si sente bene è la mia live no la mia po' si sente bene il mio microfono lo so è la mia live ovvio che si sente bene ah aspetta oddio dice i componenti del mio pc ti sono no la mia po' si sente bene è tutto allora gpu gtx 1080 rizen 7 la ram vedico windows 10 ma non sei dal vivo si che sono dal vivo ma ok ora si prima un'altra volta ti ho chiesto ti ho chiesto tipo ma che 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 scheda video hai no windows 10 guarda questa è la mia scheda video guarda la live la vedi? l'evidenziata guarda questa è la mia scheda video guarda la live oppi se ti mando uno ps eh con geforce experience vabbè non è neanche male no ma posso aumentare anche la qualità solo che non l'avevo fatto prima perchè streamavo col vecchio pc quindi non mi reggeva gli fps questo non lo so ma posso aumentare anche la qualità solo che non l'avevo fatto prima mi hanno detto che ti piace il margarello ti piace il margarello ti piace il mangarello mangarello oh si ho detto margarello ho detto margarello vuoi che ti escio allora ti escio ti aspetta ma siamo lì con l'allai un po' di persone ci vedono giocare è bello madonna per trovare il tuo canale ma che cos'è ma trovo solo un cane con una lingua fuori non so perchè ho tipo non carico video da mesi mappare più che seraio porco due ehi prima se scrivevi il mio nome non usciva nemmeno il canale ok non me lo calcolava eh donna ragazzi il lezzo il lezzo guarda che faccia ahah stavo lì a controllare le armi madonna santa aspetta, mo' sto pensando su CS Moncks ahaha ahahah 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 ahah 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 E il mio mag e la mia P250 vanno da dio insieme. E' iniziata eh? Faccio questa merda di mousepad minchia porco due. Ah mi vede questi sono arabi vabbè ma non sono russi dai. E' iniziata. E' iniziata. E' iniziata. E' iniziata. Che sta venendo molestato a fianco a me scusatemi. Tipo se potessi anche togliere quel cazzo che sto linkando un po' la leva è un po' di pressione. Quindi per favore togliere quel cazzo che c'è davanti. Ah che sai. E' iniziata. E' iniziata che c'è! Salgo. Ero! Ero! adottino lui qui parlando chi lo faremo tutto in testa no, il freddo i porco qualcuno è stato stuprato e io sono morto malissimo sta dietro sta dietro cazzo serio tutta ma c'è un mancarello cosa vuole è il suo parlamento russo ahahah che coi coi si è che sto comprando è turco abbiamo i nemici turchi ragazzi bomba senza un cazzo di motivo la cp il 99% Oh la windows di merda gli aggiornamenti B B B o B B quello ho comprati manchè per cosa ne sene volut più specializzando attendiamo si vabbè dentro al muro porco due vorrei darvi la mano però una smoke davanti al cazzo calmati è una kill la compriamo è bloccato il gioco dobbiamo pure la mano con una re questi amici stanno a giocare e stanno a lasciare tutti insieme questi push hanno iniziettano è quello che dovrebbero fare i tiratori ma ancora loro nei nastam no se non si fa il terreno da far schifo aiuto st st io ho preso in test quanto palace iiii che cosa fa questo madonna rai costo costo impede su cammini la 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 per una mia protezione ho dovuto prendere il tamas dei pinocchi puoi prendere il tamas il mio mondo cus buone cannes se? il mio D oh vedete mi è clavotto sono a messa oh a mid nessuno bomba droppata un po' run un po' run guarda opala guarda rampa un po' run ok, evitate di fullplash voi scusa, faccio una azione ok scogliò il flugge ma fa la strega ma ti ricevi proprio in culo proprio eh è il mio secondo nome madonna ancora è qui? raga ho solo venti colpi mirate l'ace guarda guarda vuole un trattino? pombo oppure no? eh? vuole un trattino oppure no? ti vuole un trattino oppure no? ciao devo mettere Simone Canna con un trattino? con? no che vuole un trattino? ok a posto che vuole un trattino? ragazzi perché non cambiano tutti i nostri nomi però con Can finale? si secondo me è una cosa buona vabbè ma smetti 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 io sono affamato di Ace tu metti bomba Can qua sta prontando ah ma siete seri? non è qui non è qui non è qui ma stai serios? ma metti metti no no zero spettatori yey la quattro sono scese ah no un attimo cappella metti il tuo nome vero ma il cazzo eh perchè noi abbiamo il nostro nome vero perchè siete ritardati sappiamo che ci chiami Michael quindi ma sì ma no dopo lo merda no 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 sì sì certo sì sì ma hai falti eh lo penso anch'io ma certo guarda lo penso anch'io compa ma non lo chito no vedetevi cosa c'ha ma dov'era? uuuh bello è pieno mid non piccare più don't pick purple purple stay there ufo sì vabbè ma 95 mamma che ecco chi è su discord mi ha mi ha mi ha you mother fucking ahahah tu ma ahahah 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 è diventato russo è diventato cinese ma non era tedesco questo una volta? eh no è vero è vero mo mi sono scurrato le granate cazzo lo era? bibi 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 dove? Di dove? No, rimane senza, è un bait È un bait? Beh, è un bait di quelli baitosi Manco Beethoven fa di quei bait Eh, underpass, underpass Eh, lo so, se picca lo ammazzo Cambi Cogliele, eccolo Va, 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 va Sono in due Percorri qui? Beh Manager, io vado da Marquette Marquette Come sta? Eeeh, kitchen, kitchen, one kitchen, one eggs Bili avde Pide kitchen Goge, 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 goge! Vai che ma, questo. Inizio, ma? Vi stiamo in una giusta. Eh! Oh, vi hai visto il fantasma. Grazie. Oh, no, no, no. Oh, no! Compa, ti spara da sinistra No Non so, non so Non so Non mi trovo a giocare con C'è non Cazzo, ci dovranno ancora Troppi FPS Sai come uno che spara con la WP E fa render FPS Ma questo è tanto facile Però Cosa Cosa Non riesco a giocare meglio ma non mi trovo No 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 Dai Simone Chan Ah E' un bait Eh lo so infatti Cerchiamo di baitarlo noi al posto Eccolo Dove sta? Eh sei andato Andate in A Vieni A Vieni A Capito da A Palasse Dov'è? Dov'è? Palasse del ninja E' ninja E' ninja E' ninja No Tra tutte le armi che potrei prendere Sono l'unica scarica e E' poi non è che dici con 3 colpi Eh no 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 ah no no yeah i still don't understand you ma non ci si che si ah è così che si scrive il mio nome e' un bacon e' un bacon ah 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 anche il mio nome è un bacon ok ok e' un bait ma si va bene sto giocando di merda dentro eh bastante ok e' un bait questo è quello li lagga madonna no saranno di solito solo io quello che è lagga ahhh 1b 2b 3b questa confidenza no se ho capito puoi dire 3b quanti ne vuoi però ce ne sono 5 di nemici certo e' un città che ha subito quindi shut up for a sec e' un bait ma non c'è un bait e' un bait e' un bait e' un bait vai incrociando dai sto maldiando oh 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 sono turno vai defusa non spara non spara non spara sto gioco di merda non spara sto gioco di merda non c'è niente vai uuuuh 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 sei Capito Come e' in mente? Non è bello Non c'è qualcosa che fai Cosa Cosa Ma hai avuto? Non c'è un po' Mentre è un po' C'è un po' Mentre è un po' Mi ha scelto 3 persone Mi ha scelto 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 L'altra parte Masse Policja Non riesco a giocarti C'è un barco Il mio botto non lo so Non lo so Non lo so ma non c'è l'overle di telegramma sul gioco he's going away bomba però io vorrei del silenzio già l'aventola da un fastidio appunto dico papo la ventola giusto per questo ram ahahah 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 non ho capito ancora nessuno ha capito grazie oh ok, potete provare? io voglio parlare in inglese ok, tu è un bait non mi piacciono più i bait ma non spara, non spara, non spara ma anch'io è sceso, è sceso che cazzo è quel map 10? chi è che gliel'ha dato? che cazzo? è sceso ho capito che è sceso, non pensavo avessero armi erano tutti i neko, sai però dai la foto di me di immagine di bomba quello è lui in quel momento quando il milly se ne va nooo chissi fa così schifo lo vado a usare lo vado a usare lo vado a usare si è su qua c'ha un linebot ragazzi tutti i cazzosirano i pigli in testa c'ho quelle inti che fa piangere sta cosa a me piace Dio a me piace Dio grassoni con le patatine con le patatine con le patatine con le patatine budella è allergico alle ragazze fumo pure allergico alle ragazze e alle patatine minchia ma ti mangio 6 patatine al cancro sto qua diomane ouch patatine al cancro le voglio patatine al cancro non vuoi morire facile patatine al cancro c'è un uomo underpass più di un uomo un uomo si dai 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 raga è possibile che ve ne andate tutti da porco dio che cazzo state facendo con il jungle non c'è nessuno non c'è nessuno che c'è jungle non c'è non sono basito con ma che cazzo si ma perchè prendo sempre le armi scariche bomba aiutami nella vita che vita di man e' già tanto che ha workato oggi la testa della scala video se non workamo allora mi ammazzavo era al minimo ah beh si ma restano 25 ansia tra l'altro no un po' di più comunque tra l'altro quando l'ho ovviata no ho provato avviare un benchmark è successo la stessa cosa che è successo con il pc la stessa foto identica cosa ho fatto di nuovo il collegamento tutto era stato di tutto, si tu riappiava 1.5 polizia ancora B 2 2 1 2 2 2 2 aiutami bomba eh no 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 17 12 14 15 15 15 16 15 16 23 c'è la caccia io vabbè 20 28 9 è bomba eh ma lui è legge guarda il profilo privato di bomba livello 3 compriamo oh ci sei noob oh è morto dai bomba però simone vado io metto vai b vai b simone simone niente troppo tardi per andare bbbb guarda il posto guarda il posto guarda il posto guarda il posto dico a capire ah ma posso accendere no 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 siiii scusami era la sotto? sii sii in inglese sii in inglese eee michael sii in inglese tipo ma c'ha i3 minus i3 sii in inglese vabbè rientra dai non fare al bambino ma scusa ma avete visto come ninja gioca? lo so ci ha appena fatto una roba da proprio spinbot però che cazzo ci devo fare e perchè secondo te noi ci divertiamo a stare qui contro un hacker di merda qui è il short sii in short sii in short ci mi sembri fai rognito no io non lo so ii va bene sii è una short perchè stai rushing? mi chiede so excited pick up pick up non è contro il campion è morto ma c'è il senso no 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 io che sto più del cheater ok bomba scentrato hai 55 secondi mi ha fatto la pausa ok oddio ma quanto pare questa è il primo gioco porno e anime e non approvati vai cazzo ok c'è il telefono 3010 no le deal del cheater Ma nemmeno un global fa così Beh no io le faccio a 33 10 ogni tanto Con tutti quegli edge shot Ma non in 16 round Sì Ma prima abbiamo lasciato in 4 Quello lì si è alzato Faceva letteralmente un colpo Un edge shot era Pam 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 Sì così Ed era tutto il tempo in quell'angolino Io non sapevo nemmeno Ma se avessi saputo gli sarei uscito in prefire Dai io da cheat Ma non sapevo dov'era Mi metto a sparare caso che mi sgamano poi Ho capito però Poi gli dai la scusa Poi mamma prende il cheat in faccia Ne sono sicuro Quanto? Mi va bene Non ho dato una k al cheater Gento di me Battendo il cheater Eh siete contro il cheater Ah soprattutto Mi va bene Quanto? Quanto. 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 ma è diventato giapponese è diventato giapponese non era tutto un po' erano tedesco e poi giapponese più cazzo uno a sete un shot uno a sete uno a sete c'è una manina piccola eh un sacco del corpo e va capace tu hai già la voglia fra me andiamo su un pappicchiva copi non ce n'è eh appunto spalle non puoi capire il cittadino non puoi capire il cittadino non ho capito non ho capito ma non ho capito 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 viva ma che è il cittadino guarda guarda il cittadino guarda il cittadino guarda il cittadino guarda il cittadino si 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 dammi il cazzo non la sono troppo male però simone go hey go hey go hey man avete capito go hey man oh porco bomba porco bomba ma vabbè stemmia raga porco bomba tutto e tu l'ho preso connector connector ma se c'è appena passato il curve ma non si è ancora fermato porco di underposs vabbè aspettate non voglio lasciargli salvare però allo stesso tempo non voglio rischiare di morirci malissimo ma sto salvando eh lo so però vorrei evitare la morte ma sta defisando tipo con qualche hack e arriva sul site per me mi ha messo in serie mi ha spottato il cheater lì e i 18 li compie ad agosto che poi bello sai qual è che se tipo tu se uno cheater ti dice dove è una persona mi li banna due è ma quello lì ma quello lì non è facilissimo schiamare perchè spesso è fortuna capito se lo fai una o due volte tre è difficile di schiamare però se lo fai ogni round come spazio prende quel tipo hanno smaccato il site vuol dire questa no o vicino o dentro comunque lo smaccato si ok va bene picca sempre di mezzo uno il site regà ah non è il cheater con la vp quello dovrebbe essere fatta è impossibile ucciderlo ho capito che timing va c'ha quello con la vp che c'è c'è quello con la vp che culo se lo claccia o me lo limona se li guardano no non ce la farà male dimmi che ha attivato l'aimbot per favore dio dio dimmi che ha iniziato a involtare c'era un buio peccino con la vp sono in due è rimasto in vita c'è quanto abito e c'è fuori c'è un sigler di merda oh sono entrambi la carico c'è qui comunque se li poteva fare tutti quanti stasera giocava bene è stato un po' troppo sposto aspera l'hai detto eeeh ma più d'altro se stava dietro la roccia secondo me e guardava short se li faceva entrambi appena passavano c'è no money goi gobi gobi no money gobi come è il nostro soldi ha 6000 cazzo 2 soldi io sono un paio che è in base rush di mattai venga poi andate via vado underpass e mi faccio questo e c'è qualcuno in altri via rush 1 con la b90 inizia a ciccare c'è chi? 1 jungle eeeeeee 1 jungle ok connector connector scusami ma questo quanto sta citando compa bomba out c'è meno 11 guarda market ok comunque simone dimmi che per sbaglio mi hai visto uno che fa 41-16 no ma a parte quello ma hai visto che è uscito già sapendo che ero lì pure a me tipo stavo cittata lui eh? scusami 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 dobbiamo ragazzi scusami spug scusami scusami c'è gente che ci arriva pure da dietro connector vittor non sa dove sta morto nice dove stava l'ultimo no da qui ok scusami go b go b no no come ti prese ma sei un mosc ma che cazzo quanti shot ha canato? sbagliate ma perchè abbiamo un bot nooo non possono guittare adesso nooo non possono guittare adesso why did your friend quit pfff stava parlando russi a me ne sono capiti mi sono chiede i alpani ma questi casi come sono io copio un pollo anche come si dice orange porco dio il tuo compagno è quittato ragazzi hanno appena si sono sentiti ma 2-3 share perchè non posso fare ho dato tanto il il che c'è? si vabbè sono con voi che c'è? ma compà ma sta andando a sinistra non mi viene da destra c'era un altro shot l'ultimo nice nice oh ma ti vogliamo così sempre scusa nob ma ero un pochino fottuto ah ma buono ma no che ho giocato io di merda l'ho sentito a sinistra mi hai spuntato da destra in qualche modo no 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 oh 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 no 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 ok open! connect, connect come on and market kitchen nice quanto abbiamo perso si è probabile ma ci faranno arrivare a 14 e poi quello lì inizierà a spinbottare stanno facendo a forza si si ecco c'è uno che mi fa 43 kg beh ecco a posto mi ha smesso di funzionare la in botte quindi ti immagini che gli ha avuto il problema con i cheat per quello che stai iniziando a non perchè casciamo poi logga se questo qui quitta per tipo 5 minuti hanno perso poi bomba logga backbunner sono seguito e perde no 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 ma raga se questo qui quitta per 5 minuti hanno perso la partita li sforniamo a meno che i suoi compagni non attivano l'ebot wow bomba blackjig sta sta vedendo l'evento di apple bomba segniamo le nostre kill battiamo con le kill e kill del loro primo dai oh dunque ci inviti in america ah no ormai eh non c'è abbastanza spazio per tutte queste persone no no però appena prendiamo la casa nuova anche no andiamo lì ma al massimo dormite in un letto piccolo piccolo non c'è nessuno tanto se te vecchia in dinamico ahahah un cuccello di 40 cm esce fa una spri-piam va a fare la mia che c'è? finestra è sceso sceso è sceso è sceso bilan 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 scurriammi ragione faf rica ma è possibile che io sto rimanendo con 2 hp perchè questi qua mi fanno ai ciotat non mi vedono ragazzi ma come funziona allora ti spiego praticamente non lo so c'ho chi ahahah bombayat 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 capito bomba bombayat eh vaffanculo hope to check teisha c'è uno sotto c'è uno sotto c'è uno sotto e Merda partito ultima il blu è il blu sembra che c'era un altro mercato guarda che sono in due giusti oradan attasai duvali ehhh usare il blu è solo da me si riesce preparando eccolo e habs non è habs scusami ok raga possiamo farcela dobbiamo almeno fare un round così non la vincono e appunto quindi dobbiamo concentrati vai noob fia il cazzo fuori cazzo vai ti immagini se la madre di noob dice guarda ci bisogna imbiancare casa arriviamo io aspetta che chiamo la squadra mamma ci stiamo facciamo tre di noi a squadra fornezzo ci grittimo attiro alla casa trovi quattro cazzo di mia cazzo 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 morto cazzo mi sta guardando market guardo io eccolo lo rotto io guarda il short dame cazzo guarda il short sono vieni chiassi oh maico anche il file anani 2 punti e quello lì 48 kill e quasi è arrivato a 50 Manta porco di chiazzo No raga venite con noi bambino No io stiamo andando con un CP Sento che sta uno qua Si muovono iiiiiiii No raga Gheer gheer si chiama si chiama 3 Shot 1 2 short 1 jungle 2 CT L'altro Un sereno Ossa Almeno 45 short Ehm scale Un sereno Un sereno Un sereno Un sereno Un sereno Come stuprare un cheater No Quando devi carriare se non vinci Si quello vieni dagli amici ma non c'ho io Anche a me ma sicco il cazzo Compa sei nabbo Siamo in due Chiudo anche la live Non Non